telegiornali e videogiochi. Il giornale è un concetto, una realtà che viene prima dell'invenzione della televisione e dice, raccontava quello che è successo nel giorno o nelle giornate precedenti, il giornale, i giornali. Poi quando nasce la televisione, prima la radio, il giornale radio, poi la televisione, la televisione, tele vuol dire a distanza, telefono vuol dire comunicazione del fono, suono, voce a distanza, telepatia del pathos. In realtà telepatia non è come molti pensano a trasmissione del pensiero, ma del pathos, dell'emozione. Sono persone che sentono che un parente, un amico sta morendo e poi scoprono che in quel momento è morto. Quindi non è che hanno sentito il pensiero, l'emozione, il pathos. Ma questi telegiornali sono in mano a delle aziende che dovrebbero essere o pubbliche, in Italia la Rai dovrebbe essere pubblica, però per essere pubblica non dovrebbe, secondo me, accettare la pubblicità. Le persone che guardano pagano già il canone perché anche la pubblicità. Poi sono quelle commerciali che sono in mano a delle aziende che usano le canzoni, i programmi per vendere. Vedevo un'attrice, una che fa una pubblicità a un supermercato, con quel supermercato non c'entra niente. È quasi impossibile entrare nel supermercato e vedere lei che ti dà qualcosa. Forse è successo durante la registrazione di quelli che chiamano spot, di quelli che chiamano messaggi promozionali. Quindi io posso essere una persona che paga uno di bell'aspetto maschio o femmina e gli fa fare la pubblicità e però se funziona ci credono. Ci credono. Se quella con un biondo, con quella faccia lì fa pubblicare un dentifricio o un supermercato vuol dire che attira più gente. È magnetica, come una calamità. Ma allora i telegiornali che senso hanno? Ecco, ne parlo perché mi hanno detto che ultimamente hanno trasmesso scene di guerra prese da videogiochi. Ma allora i videogiochi, ci sarebbe da ridere, ma scene di guerra prese dai videogiochi. E' un errore, però è un errore grosso. Oppure scene di guerra prese da una guerra precedente, fatte passare per contemplare. Chi fa questi telegiornali? Non è che il telegiornale dice oggi il 99,9% si è comprato bene, una piccola minoranza ha fatto caseta. No. E' così. Non è che qua tutti i giorni, in biliardi di persone stanno a rubare, violentare, uccidere, saccheggiare. No. E' una piccola minoranza. Che però viene presa quella piccola minoranza. Io come mi informo? Su internet. Do un'occhiata dei giornali, mi arrivano delle notizie da amici che mi mandano dei pezzi e guardavo una notizia di uno che ha ucciso, sezionato, messo in buste di plastica, pezzi del corpo, l'ha buttato. Quando uno passando l'ha trovato, non so se è un cane, dai tatuaggi hanno salito. E chi era? Il vicino di casa. Il famoso vicino di casa che uccide questa perché questa dice che faceva la porno staff, c'era dei video hard, dei video su sesso a luci rosse e così. Ma questo qui che dicono che era un bancario, cioè lavorava in banca, insomma, ma questo qui con una divisa che cosa fa? Voi non sentite le notizie di poliziotti, polizia di Stato che vanno a arrestare una e la violentano? Perché se lei denuncia quelli vengono arrestati, no? Non sentite di carabinieri che vanno a casa e rubano gli orologi d'oro e magari violentano pure, poi ammazzano pure una sospetta, no? Ci sono stati dei casi, ma sono rarissimi così. Invece durante le guerre succedono questi casi. Mi diceva mia madre che ha vissuto, essendo nata nel 1917, ha vissuto in pieno la guerra del 1940-45, che sono stati migliaia di case, migliaia di case di stupri fatti da persone che erano venuti in Italia come liberatori, fatti da persone che si definivano partigiani. Ho conosciuto dei partigiani, penso, in 1946, quindi li ho conosciuti dopo, no? Crescendo, partigiani veri, però siccome non c'era, c'era un momento come di anarchia, di confusione sociale, molti ne approfittavano, bastava avere un'arma, andare in una casa, violentare uno, ucciderlo e dire che era fascista, no? Poi era un disonore per i veri partigiani che hanno rischiato la vita e hanno liberato l'Italia. Ha cercato di mettere a tacere, ma il punto è, il punto che voglio fare io, che in caso di guerra, se i carabinieri vanno in una casa e il polizia vanno in una casa ad arrestare uno che è terrorista, stanno attenti, sono dei corpi speciali, però non vanno per uccidere, invece in caso di guerra puoi violentare, rubare e uccidere e difficilmente i capi fanno qualcosa, non c'è un'educazione che insegna, quindi ho detto se questo che è bancario andava ad arruolarsi in qualche esercito del mondo, diventava un super violentatore assassino e trovava la scusa e magari i superiori, allora ci vorrebbe una giustizia, è vero che c'è il Tribunale, la Convenzione di Ginevra, del Tribunale dell'Aiama, il più delle volte sfuggono. Per cui magari anche i telegiornali non danno certe notizie, i bambini che quelli fanno sempre colpo, i vecchi, però le donne violentate non fanno notizia, i giapponesi hanno violentato un sacco di cinesi, nelle due Coree c'è stata violenza, quando gli americani sono stati in Vietnam violentavano le giovani vietnamiti, c'è proprio questa idea che in guerra tutto è permesso e se quella dice qualcosa l'ammazzi, dice andrà un nemico. Quindi attenzione ai videogiochi, attenzione ai telegiornali, non mescolateli, perché chi compra la Playstation ai figli, ma guarda che programmi ci sono nelle Playstation, nei famosi videogiochi, ma poi come si fa a chiamare videogioco qualcosa che mette violenza, violenza, stupri, violenza, distruzione, distruzione nella mente di un bambino che cresce? Ma lui è così tranquillo nella sua cameretta, beh ma anche questo bancario forse è cresciuto con i videogiochi. E' importante capire. Poi la banjopat delle volte andiamo a vedere è violenza fatta da spiriti incarnati in corpi maschili fatta su spiriti incarnati in corpi femminili, cioè i maschi che violentano e uccidono le donne. Se sei un genitore niente videogiochi violenti, se sei un adulto non girati dalla trappa guarda bene da dove viene la violenza, se sei un politico non far finta che è tempo di guerra. Ho visto ieri una intervista a un addestratore di soldati, addestratore di soldati che però voleva rimanere anonimo, però ha spiegato in varie parti del mondo dove lui va addestratore di soldati e dice in questo video, la guerra trasforma gli esseri umani in bestie. Ma cosa dice? Bestie? La guerra trasforma alcuni esseri umani in esseri disumani. Io ho visto dei documentari dove si vede il leone che ha mangiato, va in una pozza d'acqua e beve, vicino c'è una gazzella, ho visto vicino c'è una zebra, mica gli salta d'ordine, mica le ammazza. Solo in caso di fame. Solo in caso di fame. Quindi perché chiamarlo bestie? Cosa ne sa quello lì delle bestie? Trasforma gli esseri umani in esseri disumani, in esseri disumani. Quindi sempre quest'idea delle armi, ma ognuno ha il diritto a difendersi, vi dico solo un episodio, io ho vissuto a lungo negli Stati Uniti, ho già detto altre volte, però in Georgia il sindaco di un paese di 60 mila abitanti ha messo come regola che in ogni casa ci doveva essere una pistola carica e andava a controllare. Da quando le ha fatto questo proclama i furti, gli stupri, gli omicidi sono calati del 70%. Altri dicono eh no, perché se armi tutti, se armi tutti si sparano, ma se c'è la cultura, però se armi tutti dai anche la possibilità di difenderti. Allora la donna come viene vista? C'è questa canzone bella ciao, lo sentite? C'è uno che saluta bella ciao che va in montagna perché è arrivato l'invasore, ma alla bella chi ci pensa? Non è che dice bella ciao, bella ciao, ti lascio una pistola carica e intanto io vado su in montagna che è arrivato l'invasore, cioè lasci questa guida sola con un corpo femminile disarmata e va in montagna, ma perché non sei rimasto a difendere lei? Adesso qualcuno mi dirà ma tu cosa stai dicendo? Io dico quello che voglio.